grazie signore il tumore si posa sopra di noi noi siamo quelli che tu ami sentiamo il tumore su di noi in questo momento le tue mani sono su di noi le tue mani ci benedicono o padre del cielo netto diretto figlio gesù mediante lo spirito abbiamo innalzato a te o padre l'inno di ringraziamento vedessi invochiamo unendoci alla corte celeste alle glorie del cielo invochiamo i santi perché anche essi con noi benedicono a te per questo anno trascorso e perché anticipino col nostro canto un anno di grazia che scenderà di te su di noi lo sguardo di gesù su di noi la benedizione su ciascuno di noi sulla nostra famiglia anche io voglio aggiungere una parola di ringraziamento a voi che frequentate questo luogo e l'augurio di un anno nuovo un anno di grazia che scenderà sulle vostre famiglie intanto unisco a voi nel ringraziare dio per tutti i benefici ricevuti quest'anno anche quelle circostanze che noi chiamiamo negative che hanno segnato l'anno nel piano di dio sono delle grazie perché dio è benefico dio ci ama cerchiamo di vedere con gli occhi di dio tutte quelle cose che con gli occhi e mani ci sembrano disgrazie dio guida l'umanità guida noi e ci ha guidato in quest'anno ringraziamola ancora una volta nel dono della vita ringraziamola per noi per i nostri cari per le nostre famiglie e chiediamo già da questa sera al signore che l'anno di grazia che avrà inizio domani sia un anno pieno delle sue benedizione a voi tutti piccoli e grandi che frequentate questo luogo soprattutto agli anziani alle nostre care sorelle le donne e i nostri carissimi bambini noi rivolgiamo loro il saluto e ancora una volta imploriamo da dio le più ampie benedizioni benedetti voi che frequentate questo luogo è un luogo benedetto da dio dove egli vi ha parlato continua a parlarvi e ci auguriamo di incrementare ancora il culto a gesù liberatore che dispenserà i suoi doni a tutti quelli che frequentano questo luogo ancora una volta buona fine e buon principio grazie